Ciao ragazzi, oggi vi porto nel nostro primo allenamento qua a Di Maro, siamo tutti in acqua fredda, dentro c'è i ragazzi, facciamo il nostro bagno freddo per recuperare un po' meglio, dai lavoro e tutto quanto, vi saluto e ci rivediamo, ciao ciao. Ciao ragazzi, adesso andiamo a firmare un po' di autografici, fare un po' di foto, eccoli là, vedi tutti là, aspetta, eccoli, di là, di là, e vi mando un saluto, ciao ciao. Ciao ragazzi, eravate tantissimi, vi ringrazio comunque del sostegno di sempre, c'è un primo amico qua a Zanolli. Ciao ragazzi, abbiamo provato ad accontentare tutti, vi mando un grande abbraccio e saluto e forza Napoli. Bene, quindi adesso andiamo in un albergo a riposare, poi c'è l'allenamento di pomeriggio, vi mando un abbraccio, forza Napoli, ciao ciao. Ciao ragazzi, dopo un bel riposino, merenda fatta, adesso stiamo andando al secondo allenamento, stiamo già arrivando anche al campo, facciamo un po' di palestra e poi penso un po' di campo, vi saluto e ci vediamo, ciao ciao. Ciao ragazzi, eccomi qua, dopo questa doppia seduta di oggi, adesso faccio la mia presso terapia per recuperare meglio, perché poi oggi è stato anche tanto faticoso, poi ovviamente vedo un film, una serie tv e poi me ne vado a cucca. Ciao ciao ragazzi, forza Napoli, e questo è stato il primo giorno del ritiro. Ciao ciao.